Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e oggi siamo qua per parlare di Echi in Tempesta cioè l'ultimo capitolo della saga della Traversa Specchi di Christelle Dabot Allora, penso che questa recensione sia stata una richiesta costante con un ritmo di almeno 10 messaggi privati, commenti al giorno per quasi un mese quindi non è che io non ve la volevo fare questa ultima recensione è che io ho finito di leggere la Traversa Specchi un mese dopo averlo iniziato non perché sia un libro particolarmente complesso cioè la Traversa Specchi e Echi in Tempesta, scusatemi non perché fosse un libro particolarmente difficile da leggere ne è particolarmente denso, in fondo sono quante pagine? 500, 550 più o meno ma è scritto comunque in un carattere 14 cioè con una spaziatura abbastanza ampia è che le prime 150 pagine sono state per me davvero molto complesse da leggere per immergermi, andare avanti e questo già di per sé ha comportato un po' un blocco iniziale della lettura e cosa che non mi era successa con gli altri volumi ma di questo parliamo tra poco in questo video farò la recensione spoiler free è impossibile perché gli spoiler ci saranno quindi ci saranno delle considerazioni sicuramente generali poi però qualche riferimento chiaramente a questo libro è inevitabile che abbia degli spoiler contando che è il quarto in una saga quindi sicuramente se voi non avete letto la memoria di Babel cioè vi sconsiglio di essere qua però invece nella seconda metà del video vi metto giù nell'infobox un timestamp ho intenzione di fare delle riflessioni invece su tutta la saga cioè cosa ne penso alla fine di tutto della traversa specchi se mi è piaciuto o non mi è piaciuto se lo consiglio o se non lo consiglio insomma tutte le riflessioni generali e anche molte riflessioni sulla saga nel suo complesso che era quello che volevo fare dalla lettura del primo praticamente ma soprattutto dopo il terzo ve ne avevo parlato diciamo che avevo lasciato un po' tutti e tutte alla fine del terzo libro dicendo purtroppo questo libro mi rende ancora più chiaro il fatto che però alluttare un po' la saga e soprattutto questo terzo libro c'è bisogno di leggerla tutta e siamo qui per questo questa intro lunghissima però insomma so che questo video era veramente super richiesto e quindi partiamo un attimo da questo io ho iniziato questo libro con una sensazione strana addosso innanzitutto perché a differenza dei precedenti leggere questo libro mi è risultato estremamente pesante proprio per me è stato straziante e contando che secondo me il più grande pregio di tutti gli altri libri invece era la voracità con cui il lettore era portato a buttarcisi e a leggerlo cioè mi ricordo il secondo l'ho finito alle tre di notte pensavo che la mia vita dipendesse dalla lettura di quel libro e in generale sono stati tutti libri che io ho letto molto velocemente in un ritmo davvero frenetico e questo quarto invece è partito questo quarto invece è partito con questa lentezza da parte mia e che però non è solo una questione di cioè nel senso è stato un periodo molto incasinato quindi io ci ho messo chiaramente molto tempo a leggerlo anche per questioni di testa, di lavoro, di stanchezza eccetera ma anche perché nelle prime 150 pagine non accade assolutamente nulla ecco la ricchezza secondo me dell'attraversa specchie che invece nei primi due soprattutto il ritmo fosse vorticoso e che ogni pagina ti portava in qualcosa di nuovo ti portava a scoprire, ti portava a esplorare queste 150 pagine sono il nulla ok, quindi partiamo da questo presupposto la difficoltà quindi è stata cercare di motivarmi a andare avanti e visto che insomma inizio agosto abbiamo fatto questa live insieme ad Andrea, Elena e Giorgia sul canale di Andrea dovevo finirlo per la live l'ho finito tipo due giorni prima ma partiamo e andiamo con ordine la domanda di base è Eccin Tempesta è un libro che mi è piaciuto? la risposta è ovviamente no non stupisce nessuno immagino e di base per me questo libro soffre di un giganteo esco passo falso fatto nel terzo libro che io già vi evidenziavo nella scorsa recensione cioè il terzo libro è un libro che è fondamentalmente inutile per lo sviluppo della trama quindi la D'Abo si è trovata a dover chiudere tutto in un quarto volume dopo aver sprecato tempo, risorse, parole, dinamiche, personaggi eccetera nel terzo cioè in questo quarto lei doveva chiudere tutti i cicli narrativi doveva trovare una risoluzione per la grande domanda centrale cioè perché Dio ha fatto quello che ha fatto e qual è il problema di Dio ok? cioè qual è la base del conflitto che l'umanità ha con Dio chiaramente diciamo che nel terzo poteva già iniziare a mettere dei binari molto più chiari e molto più solidi sui quali instradare fondamentalmente questa narrazione invece quello che fa nel terzo libro è quello di aprire una serie infinita di archi introdurre una serie di personaggi che arricchiscono ancora di più e appesantiscono ancora di più tutto questo pantheon di personaggi che, surprise, surprise in questo quarto libro non riesce a gestire non riesce a chiudere tutti gli archi e chiaramente molto spesso non hanno alcuna utilità questo libro fondamentalmente si apre come proprio alla fine del terzo con gli stessi dubbi ci sono tante cose in sospeso soprattutto delle domande anche probabilmente il senso stesso della ricerca che fa Ophelia cioè del quest della nostra protagonista fondamentalmente il rapporto con Dio e i suoi figli la ricerca dell'altro su chi sia l'altro perché l'altro è una parte importante del racconto chi siano certe figure introdotte nel corso dell'opera e il perché si comportano in un certo modo qual è il grande piano che sta alla base di tutto e il motivo del crollo delle arche ok, cioè le domande sono numerose oltre a tutte le storyline che invece riguardano i singoli personaggi tra cui ovviamente spicca quello di Ophelia bene, partiamo dal presupposto che questo libro non chiarisce nessuno di questi dubbi né di queste domande anzi, proprio uno dei motivi per cui a me è davvero piaciuto molto poco questo libro al di là del fatto che è molto confuso molto poco lucido rispetto ai primi due e che è evidente che abbia dei problemi ereditati da un libro che non era stato pensato come La memoria di Babel questo libro fondamentalmente cerca di rattoppare tutte quelle mancanze, quei buchi quelle cose che non erano state spiegate con degli spiegoni e gli spiegoni sono numerosissimi cioè io li ho sottolineati tutti durante il libro c'è addirittura un punto nel quale gli spiegoni sono ogni 4 o 5 pagine cioè ce ne sono tipo 4 di fila perché senza questi spiegoni non era possibile comprendere ciò che stava succedendo la cosa molto intelligente dei primi due libri era che tutto ciò che noi sapevamo della storia lo scoprivamo insieme alla nostra protagonista che veniva catapultato in un mondo che non conosceva in una società che le era ostile e che lei non sapeva interpretare e che imparava a scoprire segreti, misteri, eccetera man mano che si evolveva la storia quindi noi fondamentalmente seguivamo Ophelia come nostro punto logico all'interno del volume per muoverci all'interno della storia e io che non ho mai apprezzato Ophelia per una serie di cliché che lei rappresenta comunque ho sempre considerato molto intelligente questo modo di raccontare perché ciò che noi vedevamo attraverso gli occhi di Ophelia ci guidava e in qualche modo ci dava un senso logico proprio in questo volume la logica è molto assente in una parte secondo me in maniera più deliberata che in altre vabbè vogliamo vederci più di quello che si vede però proprio il fatto che manchi una coerenza logica e un senso logico a ciò che succede perché guarda caso Ophelia va nel punto in cui la Dabot vuole sempre che lei sia e non c'è mai un momento in cui questa coincidenza non avviene tanto che è talmente poco logico questo libro nella sua costruzione che Ophelia con la sua ciurma di aiutanti si muove addirittura in un posto ed è costretta a tornare indietro perché in quel posto dove è andata non ha trovato niente non è servito a niente ma doveva rimanere al punto iniziale quindi questa mancanza di logica secondo me proprio nello scoprire il mistero e proprio nel svelare ciò che sono e nello svelare quelle che sono le domande che a noi interessa perché sono quelle che si fa Ophelia viene a mancare e quindi a noi viene a mancare ovviamente una solidità di base che rende molto meno affascinante e molto meno interessante tutto il volume a mio parere ovviamente e purtroppo io non riesco a staccare questo dal terzo perché i problemi iniziano in maniera grave con il terzo e questo è semplicemente un rattoppare e trovare un modo per concludere in maniera veloce ciò che non era stato iniziato nel terzo perché i primi due volumi secondo me hanno una conseguenzialità tra i due un po' più acerba probabilmente per quanto riguarda la storia sembra proprio un intrigo che va svelato man mano quasi un intrigo di corte che però si rivela qualcosa di più e noi lo seguiamo man mano e man mano capiamo alcune delle pedine in gioco nel terzo e nel quarto queste pedine dovevano spostarsi da una dimensione di corte una dimensione più piccola e circoscritta quella che poteva essere l'arca di polo a qualcosa di più ampio perché in questo caso non si parla più di intrighi che hanno solo a che fare con la realtà di polo ma proprio con il mondo stesso perché viene coinvolto Dio non succede cioè noi praticamente nel terzo libro semplicemente scopriamo che Dio aveva usato uno pseudonimo c'è stato un intervento dell'altro e io non ricordo cos'altro avrei dovuto imparare ah sì che c'era praticamente una cosa creata da Dio cioè un istituto creato da Dio dove si facevano esperimenti vabbè quindi oltre a non portare su una dimensione che renda diciamo epica la dimensione epica della storia la Daboe in questo caso pasticcia ma ovviamente per una mancata pianificazione perché avrebbe potuto riprodurre tranquillamente la struttura dei primi due portata però a un livello più alto perché in questo caso noi abbiamo dei misteri molto più grandi e molto più universali da chiarire quindi questo libro che è super in debito con il terzo cioè in debito in realtà cioè il terzo gli deve un sacco di favori a questo quarto libro non riesce a costruire questo percorso sufficientemente credibile lucido per potersi risolvere in un quarto volume con completa compattezza ma chiamiamola lucidità perché qua la lucidità non c'è anzi sembra proprio che la Daboe abbia fatto pesante uso di sostanze simpatiche ovviamente è una battuta però io penso che la Daboe in questo caso se ne rendesse conto di essere in completa difficoltà o comunque in un o comunque in un paradigma che non poteva metterle in ottima luce quindi cosa scegliere? un deliberato caos un sistema super vorticoso mai chiaro mai perfettamente sensato crea questa sorta di caos psichedelico e super deliberato che tormenta il lettore però cioè non è una bella esperienza diciamo di trip cioè a mio parere è nebuloso cioè ma è nebuloso non perché è piacevole no? quelle cose che sai non sai boi perché forse ancora ti mancano delle info oppure magari ti piace che queste info ti manchino cioè non ci lascia quella idea un po' più ampia più trascendentale più alta anche di un certo tipo di senso che può avere il rapporto con Dio e perché noi esploriamo il rapporto con Dio all'interno di un'opera no? poteva essere addirittura secondo me una risposta più aperta non così chiusa e questo secondo me avrebbe reso molto meglio il senso del finale cioè il fatto di non avere un'unica risposta un unico motivo per cui Dio ha agito nel modo in cui ha agito e poteva essere anche il senso di quest'opera tutta cioè visto che al centro della traversa specchi c'è il libero arbitrio e la difesa del libero arbitrio anche quando ti viene portato via il finale aperto avrebbe potuto in qualche modo anche sottolineare di nuovo come lettore proprio come Ophelia sia propria della propria strada cioè sceglie come interpretare alcune cose che probabilmente avrebbe scontentato allo stesso modo chiunque però l'avrei trovato probabilmente più sensato che questo finale quindi la Dabot ci dà una soluzione che è molto poco credibile molto poco solida e che non risolve però tutti gli altri quesiti non è sufficientemente concreta per poter dare abbastanza elementi al lettore per ricostruire tutti i pezzi e quindi per questo secondo me la struttura non regge allora la risoluzione che è ciò che cerca di fare questo libro cioè trovare il modo per esporre i motivi o trovare le varie dinamiche il come ok non sono abbastanza forti come non lo è la soluzione cioè ancora di più probabilmente la soluzione e unite una risoluzione debolissima una soluzione che non regge non funzionano cioè questo libro non funziona a questo punto quindi generalmente noi adesso ci troviamo a confrontarci con il più grande dei dubbi cioè il tema del rapporto con Dio che è un po' quello che fa tutta questa trama questa trama deve eviscerare perché si è creato l'altro qual è l'obiettivo dell'altro come l'altro ha interagito con l'operato di Dio e perché Dio ha creato quello che ha creato la risposta ovviamente è che l'altro voleva creare una sorta di società ideale nella quale il libero arbitrio veniva nella quale il libero arbitrio veniva eliminato per creare proprio questa sorta di società molto ligia alle regole ligia al dovere che erano state create dall'altro per evitare ulteriori scontri ulteriori guerre insomma un sistema dittatoriale quello che è il succo e questo però non era derivante da Dio ma magari da una parte di Dio come può essere rappresentato dall'altro in fondo è l'altro che cancella le pagine della memoria eliminando la memoria l'altro praticamente elimina il libero arbitrio quindi ricordando alcune cose eliminando i ricordi elimina direttamente il libero arbitrio che è un salto che comunque si fa con difficoltà ok perché per il suo progetto di pace sarebbe stato una mina vagante il problema è che proprio questo che è il tema centrale nel quale poi dopo Eulalia viene anche eliminata e in molte parti insomma diventa quella che è più positiva in un certo senso fatica a diciamo rendersi perfettamente coerente con il resto della narrazione anzi anche perché molta parte del libro e in generale ora l'ho notata molto di più rispetto ai tre precedenti anzi rispetto al terzo no perché dopo ci arriviamo però diventa centrale nel libro la colpevolizzazione cioè cercare di ributtare alcune soluzioni che non funzionano su delle mancanze su delle incapacità dei protagonisti su qualcosa che per loro viene considerato estremamente manchevole ok ad esempio la questione della maternità cioè la maternità è qualcosa che tende a colpevolizzare le persone o a renderle strumentali all'interno della saga e Eulalia è stata una pessima madre cioè il suo rapporto con i figli diventa un tema centrale ed è anche parte della visione secondo cui noi osserviamo Eulalia allo stesso tempo la maternità è un tema molto centrale anche in Berenilde chiaramente che alla fine ha avuto la funzione di Mero Utero perché lei doveva partorire Vittoria e ne parliamo anche dopo però la funzione del suo personaggio si è esaurita in quanto finita nell'arco narrativo familiare cioè quando si esaurisce quello lei non ha più senso di esistere come personaggio passo poi ad Ophelia Ophelia praticamente in questo libro ha concluso un po' il suo arco tematico sul diciamo sull'individualità sull'affermazione e la ricerca di sé quindi il suo nuovo problema diventa la maternità Ophelia non può avere figli per il lettore non è un problema il lettore non comprende perché questo sia diventato un suo desiderio fondamentale ma per tutto il libro Ophelia si colpevolizza si sente in difetto perché non può avere figli che è un desiderio che noi non avevamo mai percepito dentro di lei eppure la maternità finisce per essere un tema centrale della traversa specchi soprattutto degli ultimi due libri anche se questo ha una base completamente inesistente e soprattutto è un tema che si lega moltissimo al divino quindi lega ancora di più la maternità al tema della divinità al tema della colpa e al tema insomma di come ci si comporta perché chiunque si comporta in modo sbagliato all'interno di questa saga viene punito viene colpevolizzato viene reso disabile questo è probabilmente uno degli aspetti che a me personalmente hanno non solo infastidito ma anche un po' offeso all'interno della saga perché le persone che vengono colpevolizzate vengono molto spesso punite con la disabilità Ophelia perde le dita Octavio diventa fondamentalmente disabile dal punto di vista fisico Ambrose uguale c'è chi perde la voce c'è chi perde c'è sempre questo senso di persone che non sono mai completamente abili perché sono state punite è una visione che non suggerirei della disabilità personalmente però va bene i punti da trattare sono tanti purtroppo in questa recensione che mi spiace io mi sono data una scaletta ma mi vengono in mente troppe cose parto anche parlando dell'ambientazione diciamo che la traversa specchi in tutto e per tutto in questo libro si concentra di nuovo su Babel ma non solo quindi noi abbiamo proprio spostato l'attenzione da l'arcapolo a un'esplorazione un po' maggiore nel secondo di alcuni sprazzi qua e là fino a passare verso Babel nel terzo e nel quarto e noi nel quarto rimaniamo a Babel ma scopriamo anche un'altra dimensione che diciamo è lo specchio della nostra realtà ma che ha delle regole diverse questo chiaramente ricorda tantissime opere tantissime cose dopo parliamo anche dei tributi che ha questa saga nei confronti di tante altre però diciamo che visto che a noi è stato detto che ci sono 21 arche 21 divinità che fanno da semi dei fondamentalmente da padri di tutta l'arca insomma custodi di tutte queste arche secondo me addirittura osservarne un paio tre e poi dopo spostarsi addirittura in un'altra dimensione un po' indebolisce il senso di avere un mondo che potenzialmente potrebbe essere vastissimo e invece si cerca sempre di più di restringerlo che ha senso perché poteva tranquillamente avere un primo e un secondo libro molto legati all'esplorazione del mondo per poi chiaramente chiudersi negli ultimi perché ci sta una forma anche molto classica e molto normale visto che nell'ultimo libro noi fondamentalmente dobbiamo avere delle risoluzioni e diciamo che arca polo ci aveva solo illusoriamente aperto la finestra o comunque aperto la visione verso un mondo diverso perché poi la double lo restringe di colpo lo restringe addirittura non solo su babel tutta ma proprio sull'istituto solo su un singolo luogo e fondamentalmente anche ciò che noi vediamo a babel e l'ambientazione che noi vediamo a babel che è fatto dai lordi lux che è fatto dai componenti del magisterium scusatemi non si chiama magisterium si chiama in altro modo ma è il magisterium diciamo che i lordi lux i genealogisti insomma tutto ciò che fa parte della politica di babel per noi è fondamentalmente inutile perché sono semplicemente delle cose che di nuovo ci fanno perdere tempo nella risoluzione finale e nello scoprire informazioni utili per trovare le nostre risposte sono accessori dei quali la DABO si libera molto facilmente appena non le servono più appena può passare ad altro quindi sono tutta una sorta di percorso ad ostacoli quello che noi troviamo ma non di ostacoli che deviano il percorso semplicemente ostacoli che rallentano un pochino la risoluzione finale non lo so sono scelte chiaramente stilistiche secondo me non dimostrano brillantezza dimostrano una grande mancanza di un piano solo che non è solo la questione della politica di babel non è solo la questione del introdursi in un mondo che è un gioco di specchi che quindi nasce di per sé come un mondo che cerca di sviarti cerca di rallentarti alla ricerca delle tue domande ma secondo me il risultato non è così lucidamente brillante come poteva essere ma è proprio che noi perdiamo tempo perdiamo tempo senza avere un'idea precisa di dove stiamo andando cioè ci sono decine di schieramenti decine di personaggi decine di luoghi decine anche su babel cioè i bad boys a che servivano cosa hanno significato che rapporto hanno introdotto all'interno della storia nulla poi ci aggiungiamo l'inverso che è l'ennesima dimensione che noi esploriamo un pochino quel tanto che ci serve ne scopriamo due regole fondamentali che sono quelle che ovviamente servono alla DABO per dare un senso a ciò che ha messo in piedi però rimane molto poco lucido allora quindi noi arriviamo a chiudere la storyline in questo caso con una risoluzione che come vi dicevo prima si sposti in un punto deve tornare indietro sembra avere delle risposte ma capiamo che ciò che ci è stato raccontato in maniera molto poco chiara a noi non era servito per scoprire Dio ma per scoprire l'altro lecito questa è la cosa che forse trovo più lecita ma allo stesso tempo ci sono proprio dei personaggi che vengono eletti in maniera molto importante come è Victoria Victoria scusatemi vien da dire Victoria non so perché come è Victoria per raccontarci un punto di vista che in realtà però sembra dover rivelare una parte essenziale importantissima della risoluzione poi arriviamo alla fine e scopriamo che in realtà era solo il collegamento per vedere una parte di mondo che noi non potevamo più esplorare ma a quel punto non serviva il punto di vista di una bambina che comunque è stato anche interessante secondo me da vedere ma poteva farlo tramite altri personaggi non lo so sinceramente è stato gestito malissimo questo aspetto e ripeto cioè diciamo che quando tu attribuisci un punto di vista a un personaggio gli dai una certa rilevanza in questo caso Victoria sembrava avesse la chiave della soluzione in mano ma così non è così quindi poi noi arriviamo alla fine nella quale dobbiamo risolvere questa benedetta storia dobbiamo trovare gli ultimi tasselli e tutti si riuniscono magicamente a Babel per darci tutti un ultimo contributo però personaggi che abbiamo aperto nelle varie storyline e fondamentalmente ci siamo lasciati indietro come Archibald come Renald Gela e tutti quelli che arrivano in quel punto dove tutti si riuniscono c'è addirittura Victoria e in quel punto noi capiamo che fondamentalmente le loro storyline erano semplicemente inutili perché bisognava arrivare lì in quel punto a una sorta di battaglia finale per aiutare Ophelia per mettere in difficoltà l'altro per cercare il senso ovviamente di Dio scoprendo chi è Dio in una delle scene forse più confuse e più insensate di tutta la saga cioè quando noi scopriamo che Dio è Elizabeth sembra un po' che lei abbia pescato da un cesto per dire ok chi è che tra tutti questi deve essere Dio e non se lo ricorda è Elizabeth che sinceramente c'erano stati pochissimi rimandi e secondo me non è così sensato allo stesso modo c'erano invece personaggi che potevano tendenzialmente essere molto di più vicini al concetto che si poteva avere di un Dio messo a tacere un Dio senza memoria come poteva essere Seconda che aveva problemi nella comunicazione ma riusciva a disegnare quindi secondo me sarebbe stata una scelta molto più intelligente poi devo dire che di intelligente e logico in questo ultimo volume c'è molto poco quindi un po' tutto valeva però davvero anche quando io penso ai personaggi in questo volume ci sono grossi buchi ma grossi enormi cioè Ophelia per dire che è la nostra protagonista che noi sappiamo ha sempre avuto mille manchevolezze un po' perché lei appunto si sente fratturata cioè lei ha quello che noi potremmo definire un trauma no? a un certo punto si è spezzata attraversando lo specchio liberando l'altro e in qualche modo aggiungendo una parte di sé e fratturandosi no? quindi lei si scompone in qualche modo però Ophelia in qualche modo tra il primo e il secondo capisce un proprio percorso ha i suoi punti fissi e in quello li segue con grande semplicità ma con logica in questo volume secondo me ancora peggio che nel terzo Ophelia invece la logica la mette completamente da parte aspetta che siano gli altri ad avere delle risoluzioni per lei oppure ogni volta che ha una risoluzione è sbagliata perché dice no ho capito tutto no Ophelia non è vero hai completamente scazzato in più mi viene anche da pensare che quando Ophelia ha bisogno di avere delle soluzioni ci sono sempre questi racconti della soluzione c'è un confronto spesso col cattivo con il malvagio con l'altro con gli altri personaggi negativi che le devono dire il loro piano che sembra un po' la versione cartone Disney con questo sto facendo e se non l'hai capito Ophelia sto facendo anche questo che che ragazzi cioè non è credibile cioè rega non è credibile davvero il suo arco secondo me si è molto concluso nei precedenti libri perché lei doveva affermare se stessa in qualche modo affermare che indipendentemente da ciò che le succedeva attorno la ricerca di sé e il libero arbitrio quindi la scelta di scoprire da sola e confrontarsi da sola con le proprie scelte fosse parte stessa del personaggio anche la sua grande forza no? perché potevamo insomma rifletterci in Ophelia Ophelia è il personaggio che cerca la propria strada il proprio percorso e la propria affermazione affermazione che non per forza significa successo ma affermazione significa semplicemente autodeterminazione nel suo caso quindi di nuovo il senso stesso dell'opera cioè la rincorsa al libero arbitrio la difesa del libero arbitrio e invece in questo volume invece che costruire ricostruirsi per logica il suo percorso diventa un inseguire gli eventi totalmente a caso ma guarda caso che la portano esattamente dove vuole la Davo perché lì deve esserci un'aggiunta strategica del piano che però non è strategica è semplicemente casuale e totalmente non spiegata quindi per questo che anche noi ci sentiamo disorientati perché non capiamo più il senso di ciò che sta succedendo cioè non ha veramente più uno scopo sincero perché i suoi scopi diventano da un lato inseguire Thorne e salvare Thorne dall'altro trovare il modo per dirgli che è sterile che diventa un obiettivo cioè il suo confessare che non può avere figli come scopriamo che i figli erano un suo obiettivo che non lo erano prima allo stesso tempo però si ricorda che deve comunque scoprire l'identità di lì e fermare l'altro però sembra che tutto ciò sia sullo stesso piano che è molto strano e in questo Ophelia secondo me è molto meno lucida che nei primi due e ci sta che sia una spirale discendente perché è molto più complesso e il dramma che si trova ad affrontare in questo libro ma qui è veramente in balia degli eventi cioè è un fuscello al vento cioè anche per questo uno dei suoi drammi proprio lo scopo di tutto il suo percorso e anche il grande conflitto che prova verso se stessa diventa la maternità lei viene definita per tutto il corso del romanzo da questo suo desiderio che scopre nel momento in cui le viene tolto non lo so molti dubbi cioè secondo me Ophelia tra l'altro che questa è la storyline del mai una gioia perché gliene capita una dopo l'altro l'importante che lei soffra diventa proprio il simbolo stesso del sacrificio quando se per acquistare il libero arbitrio se per sopravvivere alle scelte personali tutto ciò che succede deve passare attraverso delle forme di controllo sacrificio e sofferenza l'idea che a me dà è che il libero arbitrio non sia qualcosa di positivo io qua lo dico qua lo ammetto ma a me i fasci non piacciono quindi se il senso di tutto questo era che ascoltando Dio e ascoltando il piano insomma preconfezionato per te invece il sacrificio non succede non lo so è un modo molto strano per provare anche a porre questo tipo di questioni ecco non è così positivo il modo in cui ci viene spiegato veramente c'è Ophelia tra l'altro soffre in maniera atroce per tutto il libro è molto ingiusto Thorne invece e dopo parliamo di Thorne e Ophelia perché ne abbiamo da dire vive un sacco di conflitti interni all'interno di questo volume e devo dire che Thorne nel bene o nel male che secondo me in questa storia in tutto il volume in tutta la saga rappresenta il bianconiglio della situazione per il suo modo quasi ossessivo compulsivo di guardare l'orologio di seguire una routine di avere una serie di cose da fare che viene scombussolata in qualche modo anche dall'introduzione di un personaggio come Ophelia però in qualche modo Thor vive dei conflitti interiori che da un lato secondo me noi non abbiamo il tempo di capire perché nei primi due il senso era ok noi abbiamo un rapporto che è stato messo insieme da una decisione presa dalle nostre famiglie cerchiamo di collaborare di rispettarci a vicenda e poi si vedrà che secondo me era molto lecito anzi io avevo apprezzato molto il fatto che non ci fosse per forza Pipi stai facendo una recensione cioè io avevo apprezzato moltissimo il fatto che tra i due non si creasse questo insta love ma anzi giustificassero molto il fatto di rimanere conoscenti e poi boh magari in un futuro si sarebbe potuto sviluppare qualcosa poi accade qualcosa alla fine del secondo libro che io non avevo colto granché e diventa un legame che è qualcos'altro e da quel momento in poi nel momento in cui Thorne capisce di essere innamorato di Ophelia soprattutto come avviene poi nel terzo libro Thorne non ha più nulla da dire all'interno della storia cioè Thorne ha capito di essere innamorato di Ophelia legata a Ophelia e che questo lo trascina fuori dalla sua compulsività e quindi vive una serie di conflitti interni che noi fatichiamo a comprendere cioè in questo caso addirittura arriva a dire ad Ophelia che lui non vuole essere solamente la persona con cui lei è sposata e che ama ma vuole essere indispensabile per lei che non è un'esigenza che noi comprendiamo secondo me perché non ce n'è necessità all'interno della storia e io ho faticato molto a comprendere perché Thorne da un certo punto di vista in poi non diventasse invece molto funzionale da un punto di vista strategico alla storia e qua si è perso il personaggio cioè perde di motivazione perde di compattezza che per me è un peccato perché in realtà Thorne per quanto sia un personaggio che nella relazione è orribile è in realtà interessante o ha del potenziale però è gestito molto male ma un po' come Ophelia a un certo punto i personaggi smettono di avere dei desideri dei conflitti sensati interni o comunque dei desideri che noi cerchiamo di capire che devono avere insomma delle esigenze che devono poi essere splettate all'interno della storia sono molto meno credibili in questo quarto libro poi in maniera super evidente peccato peccato ma passiamo ai personaggi secondari perché io qua voglio la giustificazione scritta da entrambi i genitori della Dabo perché allora abbiamo aperto le storyline di Archibald di Octavio di Berenilde di Victoria di Gela di Renard di Ambrose di Olalia di Elizabeth di Seconda di Dio dell'arco delle divinità di Farouk di Artemide il Cavaliere cioè è veramente la fiera questo libro di ulteriori storyline che vengono aperte e non vengono chiuse anzi ci sono proprio personaggi che secondo me perdono proprio il senso stesso della loro presenza dentro la narrazione uno su tutti secondo me è Archibald che poteva essere invece un personaggio sfruttato molto molto di più e sicuramente tra tutti questi quello più strategico quello sicuramente che ha più capacità anche di intessere trame perché come ci viene presentato nel primo ci dicono di Archibald non ti puoi mai fidare perché Archibald non sai mai dove giacciono le sue alleanze e questa cosa a me piaceva molto perché poteva trasformare la storia poteva essere una chiave di volta invece non lo è anzi qua addirittura sappiamo che è malato guarda a caso si ammala il personaggio più sconsiderato di tutta la storia quello che ha vissuto una vita più eccessiva rispetto agli altri e viene ovviamente anche lui punito punito con la malattia che anche qua secondo me è un chiaro riferimento ad altro ma non voglio espormi troppo Vittoria è l'altro grosso problema come vi dicevo prima lei addirittura ha la potenza di avere dei capitoli dal suo punto di vista ma il suo punto di vista raccontava semplicemente altri personaggi che se no non avrebbero mai avuto spazio all'interno della storia perché erano su un'altra arca ed è un problema secondo me sostanziale di questo libro e del precedente perché non solo il personaggio fondamentalmente alla fine non ha questa rilevanza ai fini della trama e ve lo ripeto secondo me il punto di vista di Vittoria avrebbe rivelato un'informazione chiave su Dio e sull'altro invece non è così e mi sembra l'ennesimo personaggio che purtroppo all'interno della saga viene un po' mangiato dalla storia viene un po' sopraffatto dalla storia mi dispiace molto come mi dispiace ad esempio per Berenilde che vi dicevo prima alla fine la sua funzione al di là di quella di sorta di matriarca all'interno di tutto questo è stato quello di procreare Vittoria io continuo a dire Vittoria invece che Vittoria vabbè ma abbiate pazienza sono anziana ma anche tutti i figli di Eulalia Farouk cioè Artemide non so come dire sono tanti sono inutili ai massimi livelli alla fine della storia soprattutto nella sua risoluzione cavolo hai dei semi dei e alla fine non servono a niente a nulla non agiscono e non riescono in qualche modo ad essere degli alleati strategici di Ophelia per me è allucinante inaccettabile poi ci sono tutti quei personaggi che noi incontriamo conosciamo su Babel da Octavio a Seconda ad Ambroise che tra l'altro non lo so come dire Ambroise sembrava che fosse lui l'altro perché tutto il libro ci diceva ah perché lui ha una faccia strana ah perché lui non somiglia ah perché lui ha fatto questo ah perché lui era a disagio c'erano così tanti indizi che a un certo punto hai detto o è lui oppure è talmente evidente che cerchiamo di andare lì che ci sarà una rivelazione no Octavio a un certo punto è quello che forse su Babel crea un legame più solido di tutti con Ophelia e alla fine della fiera cioè creare dei legami solidi aspetta in questa saga i personaggi i legami sono totalmente superficiali e ve l'ho sempre detto che è una delle pecche secondo me del romanzo anche se riconosco che dal punto di vista della scrittura meglio rimanere sulla superficie che fare un lavoro a metà quindi ho preferito perché o si va molto a fondo o si rimane così in superficie come ha fatto la Dabo e rende lo stesso però a un certo punto quando muore Octavio ah vabbè ok ciao non lo so un patetismo inutile cioè gli obiettivi nella storia dei personaggi in generale sono molto poco chiari e sono tendenzialmente inutili sono da un lato esigenze personali come ci vengono introdotte nei primi due e poi hanno dei riflessi sulla storia in generale quindi diciamo i personaggi sono funzionali alle proprie esigenze ma anche a rendere la storia tante componenti diverse che piano piano verranno ricollegate dai fili logici no no va bene raga no niente quelle dei personaggi non sono delle esigenze credibili diventano funzionali in quel momento e poi le perdiamo ma arriviamo al mio argomento preferito per un rapporto tra Thorne e Ophelia cioè quel disastro che è stato fatto su questo rapporto a parte che a me personalmente come gusto personale sarebbe piaciuto vedere una storia dove i due protagonisti avevano stretto questo patto nel secondo libro di continuare a collaborare a vicenda essere vicini guardarsi le spalle e poi magari alla fine capire che ci poteva essere qualcosa di più soprattutto perché vi ricordo che tra il secondo e il terzo ci sono tre anni di stacco nel quale i due non si parlano invece noi scopriamo che sono tre anni nei quali Ophelia si dispera e non sa più qual è il senso della sua vita perché si scopre innamorata di Thorne vabbè fingeremo che questa cosa è credibile e realistica quando parliamo del rapporto tra Thorne e Ophelia soprattutto tra il terzo e il quarto il tema centrale tra di loro diventa la comunicazione no perché nei primi due loro due non comunicavano e come ho sempre detto dalla mia prima recensione per me è allucinante che Ophelia debba passare tutto quello che debba passare solo e unicamente perché Thorne non dice mai a Ophelia ciò che sta succedendo quindi lei cade in tranelli si sente in pericolo finisce in situazioni davvero molto pericolose solo e unicamente perché Thorne non le dice cose omette qualcosa che lui sa già questo secondo me già di per sé è una base per comunque fare una denuncia però va bene allo stesso tempo però anche Ophelia in questo caso trasforma la relazione con Thorne tra il terzo e il quarto trovandoci un appiglio più grande di quello che noi avevamo potuto esplorare poi qualcuno ci ha visto qualcosa di più scippare i due personaggi è un co cioè lo trovo validissimo però quello che voglio cercare di spiegare io con questa mia osservazione è che non ci sono i presupposti per questa relazione per tutto il libro ci viene detto che alla fine il loro nuovo obiettivo tra il terzo e il quarto è quello di comunicare trovare il modo di comunicare ed effettivamente un po' più di prima succede cioè quando si incontrano qualche cosa se lo dicono ma è comunque insufficiente secondo me a spiegare questo grande legame che hanno primo perché stanno pochissimi insieme cioè le scene dove sono insieme saranno quattro tra il terzo e il quarto libro cioè non sono di più sono pochissime e in quei momenti peraltro comunicano per pochissimo cioè si dicono alcune informazioni e allo stesso tempo poi fanno cosacce nei momenti meno opportuni non perché sia sbagliato avere dei rapporti sessuali figuratevi ma perché sono momenti proprio inopportuni peraltro il rapporto che Ophelia vive con Thorne è un rapporto che io giudico tossico primo perché comunque Ophelia è sempre in sudditanza di Thorne è sempre in una posizione gerarchica di inferiorità lui ha le informazioni ha più informazioni di Ophelia e questo già getta Ophelia in una posizione di inferiorità peraltro Ophelia vive un costante terrore nei suoi confronti a un certo punto lo dice speravo che lui non estraesse o non reagisse con insomma il suo potere familiare che sono ovviamente gli artigli e questo secondo me è allucinante lei ha terrore di Thorne tra l'altro Thorne apre la faccia a un bambino davanti ai suoi occhi e Ophelia giustifica Thorne dando la colpa al bambino per me è allucinante c'è una relazione completamente abusiva anche se ha fatto un po' di passi in avanti cioè qualche comunicazione in più tra di loro c'è stata è comunque secondo me problematica in una maniera che non so avrei preferito davvero che si fossero imparati a conoscere nel corso dei quattro volumi e alla fine di questo volume come è andata a finire Ophelia capisse che forse c'era qualcosa di più o comunque che magari alla fine di tutta la fiera di tutte le loro avventure Ophelia magari capiva di sentire qualcosina di iniziare a provare un legame per il suo sposo no io veramente non riesco a capire che fascino ci sia tra la storia tra Ophelia e il Thor per me è una delle relazioni più inquietanti vabbè quindi niente secondo me le osservazioni principali che ho su questo volume sono queste cioè questo finale poi queste ultime 50 pagine sono ancora più allucinanti di tutto ciò che era prima è confusissimo all'inizio davo la colpa ha delle cose di traduzione secondo me a questo punto non è più la traduzione ma proprio che non hanno senso e che sono frettolose poco pensate poco pianificate tra l'altro c'è questa frase che ricorre sempre del pozzo che non è più vero di un coniglio di Odino che sembra dover rivelare dover rivelare qualcosa di fantasmagorico secondo me non rivela nulla è completamente inutile è una frase che forse dovrebbe spiegarci qualcosa ma non ce la spiega no cioè io non lo accetto nel senso che a me la psichedelia piace ma piace quando ha un suo senso e non ce l'ha avuto in questa saga soprattutto per come era partita e ora mi sembra solo un espediente molto comodo per mettere delle pezze dove ce n'era bisogno alla fine io a questo volume ho dato due stelline ma ora vorrei fare una riflessione più ampia una serie di riflessioni finali in generale sulla serie della traversa specchi perché al di là di questo quarto volume cosa ne penso della saga come la concepisco se la suggerisco e quali sono gli elementi che secondo me sono forti deboli eccetera per chiunque magari voglia suggerirlo posso suggerirlo ad altre persone cercherò di essere breve giuro so che ci ho messo un sacco a fare questa cosa ma vabbè ci provo allora partiamo dalla traversa specchi come serie secondo me i punti forti di questa saga sono innanzitutto degli aspetti che sembrano originali e dico sembrano perché ora ve li spiego perché ripesca davvero tanti elementi che quelli che hanno la mia età ma anche quelli più giovani che hanno ovviamente visto la seconda ondata rispetto ad altre serie ripesca alcuni elementi che erano molto popolari nelle serie tra la fine degli anni 90 la metà degli anni 90 e fino al 2010 diciamo e anche qualcosa in più perché secondo me ha degli elementi che ripescano romance urban fantasy eccetera e da un lato rispecchia perfettamente alcuni elementi molto popolari in queste saghe che abbiamo letto e abbiamo amato il personaggio goffo come protagonista che cerca la sua strada ha un conflitto interno e questo la spinge in questo caso perché è una protagonista a intraprendere il suo il suo percorso il suo quest la sua ricerca verso una soluzione o verso una strada allo stesso tempo ci sono intrighi a corte macchinamenti perché sapete che è una delle mie cose preferite nel fantasy in generale insomma tutti questi intrighi e macchinamenti a me gasano ci sono tanti elementi steampunk che chiaramente fanno dei riferimenti molto precisi ad alcune opere ci sono anche tanti richiami secondo me alla distopia e sono numerosissimi gli elementi c'è anche il tema del rapporto con la divinità che è un altro elemento che chiaramente richiama alcune opere in maniera molto chiara però per alcuni tratti non è solo un richiamo a queste cose che noi conosciamo bene e sono nel nostro immaginario ma a tratti sia per una forma che per una reimmaginazione e una mescolanza di questi elementi riesce a trasformarli anche incorporando alcuni degli elementi più pop lasciatemelo passare dello young adult più contemporaneo come elementi da Twilight del romance di Twilight ma sia da romance anche ai richiami della distopia tipo Hunger Games a rendere tutto molto molto fresco originale e soprattutto appassionante perché ripeto secondo me i primi due soprattutto sono dei libri trascinanti da morire anche il terzo cioè questa è una saga che tu leggi e non vedi l'ora di leggere il libro dopo secondo me questo è un pregio che poche serie hanno la scrittura della Dabot è sicuramente un tipo di scrittura trascinante appassionante lei riesce a creare una storia che indipendentemente da come andrà a finire e la risoluzione è male comunque ti appassiona comunque ti tiene incollata a quelle pagine questo è una virtù che hanno pochissime autrici e questo vi ricordo che è un debutto cioè è un debutto che ha una brillantezza una lucidità per i primi due che hanno pochissime serie io ho visto poche serie così strutturalmente bene impostate e pensate e soprattutto che abbiano anche un sapore di freschezza di distacco anche dai modelli che magari siamo più abituati a leggere che sono quello americano o quello inglese noi abbiamo di fronte un qualcosa che non ha quel particolare legame nonostante li abbia cioè soprattutto nei primi due la scrittura è lucidissima è trascinante nella sua evoluzione ha una logica molto coerente e un'attenzione molto particolare allo svelamento delle cause insieme alla protagonista che noi seguiamo non è mai una forzatura conseguenziale la storia di Ophelia e il percorso di Ophelia ma insomma insieme a lei noi scopriamo un pezzetto in più pezzetti che ovviamente abbiamo capito che si sono rivelati totalmente inutili però va bene e chiaramente non hanno un arco narrativo credibile degno però comunque ci hanno tenuto incollati alle pagine è un peccato perché questo secondo me contribuisce a lasciare un po' l'amaro in bocca alla fine della serie che è un po' la sensazione che io ho avuto oltre che amaro per me è stata anche noia però va bene quindi cioè io mi sento assolutamente di consigliare questa saga perché secondo me Fidanzati dell'inverno e Di scomparsi di Chiar di Luna sono due libri molto molto validi che danno un'impronta molto importante a una saga che poi magari non si esaurisce in una maniera altrettanto brillante ma comunque secondo me è un ottimo punto di partenza sia per la Davo come scrittrice che non so se scriverà altro però sicuramente è un debutto che è meglio di tantissimi altri e allo stesso tempo dà davvero uno sguardo molto originale molto fresco al modo di intendere il fantasy contemporaneo che tra l'altro non è nemmeno del tutto inscrivibile come young adult insomma in questo caso le linee di demarcazione del target sono molto ampie molto poco definite cioè lo consiglio molto nonostante il finale per esplorare insomma un modo di narrare secondo me efficace nelle sue forme nelle sue intenzioni e per molti versi secondo me assolutamente trascinante poi ci sono temi anche che a me piacciono molto cioè da un lato il tema dell'autoaffermazione dell'autodeterminazione il libero arbitrio e anche il rapporto con Dio cosa significa il rapporto con Dio anche se secondo me nella sua risoluzione va nella direzione esattamente opposta nella quale io sarei andata perché come vi dicevo nella raffigurazione dei personaggi femminili soprattutto nel primo era un'impressione che sembrava volesse rendere il mondo nei rapporti con il genere femminile quasi grottesco quasi esasperato perché poi ci sarebbe stata una risoluzione molto diversa in realtà no raga avevo ragione cioè no nel senso che secondo me la punizione il diciamo il sacrificio eccetera sono un po' i temi di questa saga chiunque viene punito all'interno della saga in maniera anche molto inflessibile per discostarsi da qualcosa che invece ha a che fare con il libero arbitrio e per me è una morale molto sbagliata però nei primi due mi aveva dato tutt'altra impressione e a mio parere visto che è uno dei temi a cui io tengo molto soprattutto il libero arbitrio e in generale anche il rapporto con la divinità con la religione cioè sono due cose che mi hanno comunque affascinata in più secondo me come ogni ottima storia che ha a che fare con degli adolescenti e dei ragazzi la ricerca della propria individualità l'affermazione del sé anche quando per il mondo esterno si è fratturati si è incompleti si è goffi si è sbagliati in qualche modo è un impatto importante è un sempre un aspetto che a me affascinerà perché è il motivo per cui io leggo tante di queste storie a me piace scoprire come i personaggi trovano la propria strada e affermano la propria individualità indipendentemente dal resto è una cosa che secondo me è estremamente importante e lo sarà sempre e per questo secondo me l'attraverso specchi è molto interessante da questi punti di vista anche se poi fa casino ma questo ci interessa poi relativamente in ultimo vorrei parlare dei richiami che è stata invece purtroppo una delle cose che a me ha più dispiaciuto di quest'ultimo libro infatti nella mia recensione su Goodreads io ho scritto se volevo leggere Pullman leggevo Pullman perché mai come nell'ultimo libro secondo me i richiami a queste oscure materie sono così evidenti dal Diamond e quindi dalla scissione tra il Diamond e l'essere umano che è esattamente ciò che succede nella separazione dall'altro ma mentre la separazione dall'altro sembra una cosa molto poco sensata almeno così per come ci viene presentata è molto poco sensata in Pullman la scissione dal Diamond è uno degli eventi che ti colpisce di più all'interno della serie cioè quando Lyra sa che sta per perdere Pantalaimon ho i brividi solo a pensarci perché è una delle cose più atroce che possa accaderle e noi lo percepiamo percepiamo la gravità di questo fatto perché capiamo cosa significa il Diamond mentre l'altro mentre questa sorta di Eco per noi è molto poco sensata è veramente poco lucida ok e questo è un richiamo che secondo me è proprio palese peraltro tutto questo percorso che noi facciamo nel Magisterium perché è quello che poi leggiamo cioè i genealogisti stanno nel Magisterium ok o nell'istituto se volete un richiamo a Shadowhunters però prima c'era il Magisterium per me è veramente fastidioso perché comunque l'impostazione è esattamente la stessa un organo di controllo un organo di controllo che chiaramente punta a limitare la libertà di espressione e la libertà di ovviamente autodeterminazione però secondo me i metodi con cui la Daboli racconta non sono altrettanto efficaci più ovviamente il tema centrale è la guerra con Dio quel conflitto con Dio il perché Dio ha fatto quello che ha fatto che è esattamente uno dei temi importanti anche dell'opera di Pullman il problema è che poi mentre nel terzo libro che anche Pullman diventa un po' più trascendentale diventa davvero molto alto ed è per questo che molti il terzo libro di questo Scurematare lo amano meno insomma diciamo che diciamo che chiaramente il cannocchiale d'ambra arriva a dei livelli molto alti però secondo me c'è comunque una grande idea di fondo molto solida qua il rapporto con Dio è quasi più un conflitto tra Dio stesso che verso le altre persone e soprattutto questo conflitto non ha una sua diciamo trasposizione nel suo paradigma nella storia di Ophelia abbastanza efficace secondo me e questa è una grande perdita poi ci sono tanti altri elementi che ricordano la bussola d'ore a parte delle frasi che secondo me sono presi dalla lama sottile e dal cannocchiale d'ambra in maniera quasi palese però per esempio anche solo il corno ricorda tantissimo la bussola perché sono due elementi chiave per poi accedere a questo fantomatico rapporto per non parlare della polvere cioè l'airarjum è la polvere o comunque questa cosa trasformata in polvere che ricorda che ricopre d'aura le persone cioè ce ne sono davvero tanti anche il finale stesso quando c'è il rapporto con l'altra dimensione cioè ricorda esattamente il finale cioè Will e Lyra adesso non vorrei fare spoiler sulla bussola d'oro però se non l'avete finito di leggere saltate però Will e Lyra devono a un certo punto separarsi uno deve rimanere nell'altra dimensione proprio per chiudere tutte le porte proprio perché in questo modo la polvere non attraversa le due dimensioni e anche la dimensione stessa la doppia dimensione stessa è un chiaro riferimento alla bussola d'oro e questo scambio equivalente è cioè poi ci sono è una roba che accomuna anche full metal alchemist per dire lo scambio equivalente allo stesso tempo secondo me anche il modo in cui viene rappresentato Dio il fatto di un Dio artificioso di un angelo artificioso a me ha ricordato Evangelion non tanto perché ci fossero gli angeli qua ma proprio perché sia tutto costruito in una maniera da replicare la divinità in questo caso non è l'umanità che cerca di replicare Dio ma è Dio stesso che viene fregato e in questo modo si incasina tutto però in qualche modo a me lo ha richiamato come vi dicevo prima secondo me c'è anche qualche elemento distopico che richiama Hunger Games soprattutto nel primo magari c'è la spietatezza del paesaggio e comunque della società di Arcapolo e poi ci sono tante altre cosine secondo me che richiamano anche questa cosa qua poi ci sono altre due opere che secondo me hanno davvero moltissimi elementi in comune uno è Alice nel Paese delle Meraviglie e l'altro è Harry Potter parto da Harry Potter cioè secondo me è proprio il modo in cui viene impostata la storia e come vengono risolte le varie storyline soprattutto nel primo ma poi anche nell'ultimo nella morale finale nella guerra finale con più o meno risoluzione di un certo tipo richiama moltissimo lo stile della Rowling e anche perché chiaramente sappiamo tutti che Harry è l'opera che forse di più ha inciso sul modo in cui noi intendiamo la letteratura per bambini e ragazzi nell'età contemporanea però la traversa specchi proprio per le forme per l'impostazione per la morale per la ricerca del giusto per il percorso dell'eroe per l'eroe che in qualche modo si deve sacrificare richiama molto chiaramente anche Harry Potter in questo caso ci troviamo in tutta un'altra ambientazione ma abbiamo degli elementi in comune però forse l'elemento in comune più forte è il ciclo di Harry e il ciclo di Ophelia e secondo me qua c'è un tributo abbastanza pesante a Harry Potter non ultimo ovviamente Alice nel paese delle meraviglie in qualche modo questo modo di raccontare un po' un po' psichedelico con tanti riferimenti chiari a quell'opera il fatto di discendere un po' nella tana del bianconiglio che è un po' il discendere nelle trame di Polo da un lato ma anche nel trame nel piano dell'altro e di Dio diventano una colonna molto portante di questa opera che però si perde cioè mentre nel primo secondo me erano molto evidenti questi richiami c'erano proprio dei ruoli molto precisi assegnati ad ogni agente dentro la storia man mano questa cosa si perde per tornare molto potentemente alla fine perché alla fine l'espediente della psichedelia o comunque in generale della nebulosità dell'inafferrabilità del trascendentale però sotto effetto di stupefacenti di Alice diventa l'espediente migliore per cercare di portare a casa tutta la baracca per la Dabo dentro soprattutto e chi in tempesta questo secondo me questi tributi di per sé non sono negativi anzi secondo me uno dei motivi per i quali noi li abbiamo molto amati questi libri è proprio perché ci ricordano cose che amiamo e questo secondo me è furbo è intelligente ed è eseguito bene però ma poi il tributo diventa invece un non so come distaccarmi dall'opera al quale sto facendo al quale sto facendo riferimento e quindi in questo caso la Dabo adotta soluzioni simili soluzioni che ricalcano quelle già che abbiamo letto e che abbiamo visto oppure cerca di adottare spedienti narrativi per tamponare i propri buchi e quindi secondo me questa cosa alla fine le si ritorce contro purtroppo diventa più grande di lei anche perché per dire rispetto a un Alice o a una Rowling cioè se pensiamo nella saga di Harry Potter i personaggi sono tantissimi alcuni però hanno degli archi narrativi che si chiudono altri che invece continuano nel corso dei libri e quelli che non si chiudono si chiudono alla fine ma si chiudono tutti mentre invece gli altri si chiudono man mano che la storia procede in Alice invece i personaggi sono funzionali alla scena tranne ovviamente bianconiglio magari o alcuni personaggi che vengono richiamati dall'inizio alla fine ma sono molto pochi però la Dabo apre tutti questi archi senza mai chiuderli e per questo non funziona non funziona il finale e mi dispiace un sacco mi dispiace perché questa era una saga che era partita benissimo quindi di nuovo visto che vorrei chiuderla visto che ho sprolochiato per due ore io penso seriamente che questa sia una saga validissima la consiglio veramente con il cuore soprattutto perché i primi due a me sono piaciuto moltissimo è una delle cose più interessanti nuove e fresche che io abbia letto negli ultimi anni nonostante i gravi errori le cose che non mi convincono eccetera ve ne ho sempre parlato con grande attenzione poi ripeto questo è un debutto che insomma le fa super onore perché scrivere un debutto del genere secondo me è brillante da morire e anzi spero che molte autrici cerchino di sperimentare allo stesso modo magari un po' di più su alcune tematiche senza ricalcare alcune cose che secondo me hanno finito il loro tempo massimo volevo dire anche un'ultimissima cosa che è il motivo per cui io sono anche molto affezionata alla serie e la recensione di fidanzati dell'inverno è la recensione più vista del mio canale quindi quando io l'ho girata non è una questione di numeri però è una questione che secondo me determina che questa saga ha parecchio interesse cioè interessa molti ha incuriosito tante persone questa cosa secondo me è molto positiva e il fatto che non è tanto il fatto che sia più vista sul mio canale perché quello c'entra meno però so che è una saga che mi ha portato in contatto con moltissime persone con cui ora magari io mi iscrivo tutti i giorni spesso ci sentiamo sotto tutti gli altri video che insomma mi hanno conosciuta tramite questa saga quindi per me è motivo di affezione ulteriore nel senso che questa saga mi ha permesso davvero di entrare in contatto con un sacco di persone e per me ovviamente non è tanto una questione di visualizzazione e numeri ma semplicemente di entrare in contatto con persone che hanno voglia e sono così appassionate per la lettura e queste forme di lettura in maniera anche così proprio viscerale che io amo e sono super felice di averne parlato proprio perché davvero molte di voi e molti di voi sono qui proprio per quella recensione quindi insomma io qualcosa devo a fidanzati dell'inverno e non è sicuramente qualcosa di dovuto magari dal punto di vista economico ma sicuramente affettivo sì perché proprio grazie a quella recensione insomma tanti di voi sono qua e io insomma sono contenta direi che siamo arrivati in fondo se siete sopravvissuti e sopravvissute mi raccomando ci sentiamo giù nell'infobox perché voglio tutti i vostri pareri cioè alla fine vi ho fatto attendere così tanto che giustamente voglio sapere tutto quello che pensate ne abbiamo parlato parecchio in live con Andrea Elena e Giorgia però insomma ci tenevo anche a fare un po' il mio punto e niente quindi io devo dire che questa super recensione è arrivata alla fine spero che vi sia piaciuta spero che insomma ci sia un po' reso conto di tutto ci sentiamo giù nei commenti perché voglio sapere il vostro punto di vista e direi che insomma per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video ciao